Il gruppo alimentare Amadori punta sempre più sull'Abruzzo con un ulteriore sviluppo non solo nel sito principale di Mociano Sant'Angelo ma anche negli stabilimenti di controguerra Castellalto e Fossacesia. Come hanno spiegato nell'incontro con la stampa la corporate image Francesca Amadori ed il direttore generale Francesco Berti, l'azienda romagnola fra i più grandi gruppi alimentari del paese e che nel 2019 taglierà il traguardo dei 50 anni di vita, mira a crescere e ad espandersi grazie al lavoro che nella nostra regione svolgono 2.200 dipendenti. Previsti dall'azienda romagnola investimenti in Abruzzo per oltre 36 milioni di euro fino al 2022 tra le priorità l'accrescimento dell'automazione, l'incremento degli spazi produttivi, l'aggiornamento degli impianti, investimenti sul welfare e investimenti sul parco allevamenti. Siamo arrivati negli anni 80, anni in cui siamo partiti da zero, abbiamo costruito la nostra filiera integrata, quindi siamo partiti dagli allevamenti per arrivare alle sedi di trasformazione alimentare e poi alla consegna del prodotto finito. Oggi con un nuovo piano di investimenti continuiamo a segnare la nostra presenza in Abruzzo. Sono più di 2.200 i lavoratori impiegati nella nostra filiera in Abruzzo e questo per noi è molto importante, il fatto che questo secondo polo di importanza nel gruppo si inserisce perfettamente nella filiera integrata Amadori. Questa è una delle più grandi realtà agroalimentari del nostro paese Italia e però è ancora un'azienda familiare, quindi a partire da Francesco Amadori oggi si susseguono anche le nuove generazioni. Ovviamente i numeri parlano chiaro, oggi noi abbiamo bisogno di nuove competenze, manager, quindi è diventata anche un'azienda fortemente managerializzata con know-how specifici importanti, quindi è un'azienda di professionisti. Però ecco c'è ancora la passione della famiglia Amadori. Amadori punta molto sulla nostra regione, sull'Abruzzo, non solo sul sito di Mosciano Sant'Angelo? Assolutamente sì, come dicevo abbiamo anche un altro sito di trasformazione carni, altrettanto importante come Mosciano e abbiamo una serie di siti di preparazione e allevamento dei nostri animali che sono sparsi per l'intera regione, assolutamente sì, per cui confermiamo l'interesse e gli investimenti nei prossimi anni in regione Abruzzo. Ovviamente gli investimenti portano occupazione, portano miglioramento fondamentalmente negli ambienti di lavoro e portano l'assunzione di nuove persone. Siamo 2.200 qui in Abruzzo a livello di dipendenti, per cui il numero è sicuramente significativo e ovviamente puntiamo ad accrescerlo.